musica bella ragazzi e ben ritrovati nel secondo episodio di spinti a essere blacklist mi sono bloccato nella prima missione veramente lunghetta, mi sono divertito dobbiamo finire la prima missione solo che purtroppo la mia telecamera non ha finito di registrare non è riuscito a registrare gli ultimi due minuti comunque sia, sono andato un pochettino avanti per fermarmi al checkpoint il checkpoint come potete chiamarlo ripartiamo da quel punto non pensate che sia andato che sia andato avanti su due minutini proprio, ve li siete persi ma non preoccupatevi allora partiamo subito, siamo arrivati in quel punto qui eccoci qui, allora andiamo su torno ovviamente torniamo in partita, andiamo a scalare non deve essere i cani vedete i cani che sono rabbiosi oddio, oddio, ammazzalo ma fuori dai il cazzo cani di merda il cane ci stava ammazzando ragazzi ma ve ne rendete conto quanto cazzo è forte purratti che camminano qui in mezzo Sam, la stazione è appena dietro l'angolo ricevuto, Briggs, come sei messo? quasi in posizione ho un tetto a 200 metri a sud della stazione di polizia vedo il complesso e la strada lì davanti vieni qui, vieni qui, vieni qui, grandissimo uno giro allora ragazzi andiamo avanti ci sono anche i cani ragazzi vediamo se riusciamo a ammazzare sto coglione è morto, perfetto, anche il secondo andato c'è il cane ragazzi il cane fuori dai coglioni eh Dio santo cane di merda ehm ragazzi andiamo avanti riproviamo sono un po' scherzino scusate non sono il massimo ovviamente non chiedetemi chissà che cosa per me un gioco nuovissimo non l'ho mai toccato questa è una votata che lo tocco devo capire un po' il dinamismo come funziona tutto come funziona veramente tutto perché allora devo ammazzare un po' di gianta vieni, vieni come adesso non mi ricordo non dovrebbe essere un altro no questo sta arrivando che cazzo ha il tacchetto di ferro muori stronzo oh eh oh grazie a Dio ho finalmente scoperto come si ricarica a cui ragazzi ah ok lì non si entra cosa facciamo deve per forza riparare è lì al riparo subito in posizione come cambio arma ricarico è scarso che sono ragazzi copritemi copritemi va bene wow grande wow grandissimo scappiamo scappiamo ragazzi scappiamo ragazzi scappiamo ragazzi uh che mi porta gradissimo riuscito a scappare ragazzi è riuscito a scappare andiamo avanti andiamo avanti sono dentro oh munizioni hai scoperto dove si trova grande direi nella sala interrogatori ultimo piano lato sud caricamentato piano tranquilli ragazzi non spaventatevi dovrebbe essere un caricamentato tranquillamente prendi il furgone troviamoci alle strazioni che è ricevuto sto entrando usa il cavo ottico per non so come utilizzare il cavo ottico ragazzi facciamo così facciamolo ecco 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 il tipo adesso lo prendiamo vieni qui zio bisogna temporaggiare ragazzi in qualche modo bisogna temporaggiare adesso lui si ferma lì lo potremo sparare ma non lo spariamo vieni qui tanto lo ammazziamo vieni zio carichiamo adesso che abbiamo scoperto come si carica carichiamo sempre non ci sia nessuno andiamo avanti andiamo avanti cosa è sta cosa ahia che male ragazzi la scossa elettrica fa molto male te lo chiedo ancora una volta perché sei andato dagli americani l'ho detto voi non c'entrate niente niente lo giuro su tanto che male stai dicendo che non siamo abbastanza importanti da essere traditi è così? no cazzo che male ragazzi mi brucia mi fa il rosso con la cosa non pensare ti mette nei guai ok 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 gli ho detto tutto quello che so ok ho trovato qua è ancora vivo per ora mamma mia grandissimo luce di testa grazie grazie chi sei? cia? ma cazzo non ci posso credere sai per quella storia di Washington io sta zitto Sam che succede? no 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 non farlo non farlo un fibra ragazzi sto splinter sal sei qui per salvarmi? no ti vorrebbe ammazzare in realtà per salvare quello che sei siediti Sam si mette male le forze convergono sulla tua posizione il pacco è nostro Briggs dove sei? in posizione attendo merda mi salva per davvero muoviti avanti andiamo ah 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 anche inutile ragazzi andiamo mi terrei al sicuro vero? si 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 ah dobbiamo andare di più in chiesa brutta notizia Sam stiamo mandando dei rinforzi verso di te zero munizione ragazzi dai che cazzo mi cambi cambi visuale dio santo andiamo andiamo ma ce la facciamo a correre grandi oh ce la facciamo a correre grandissime Briggs ok allora vediamo un pochettino sto arrivando sono stato bloccato ovviamente io tieni in vita cobin in vita ecco lì qui tu stai giù grandissimi non mi dire ah che strana guarda un po' da dove cazzuccia? pensa a non farti sparare lo vedo è lì oh dio santo ammattalo ma vaffanculo che cazzata raga che cazzata mi sto rompendo già i coglioni ste cose non va bene cioè è impossibile difenderlo facilmente così è difficilissimo uno tu stai giù è un gong c'è me lì dio santo non me l'aggancia uno non mi dire oddio santo non mi fai sparare Puoi tornare in quella cenna? Ehm non muore la gente di assalto Ehm faffanculo Muori stronzo E andiamo via da stronzo veloce Scherzi a non nemmeno scatti Piacevoli ti piace di bettel I vetti taglietti stronzo Che cazzo fai? Aggrappati dai cosa perché? Fallo Fallo Devi essere Fallo Guarda Ricks stiamo arrivando Ovviamente lui è un rampino figo Grande ragazzi è la prima mandata Ottimo Perfetto grandissimo Dopo che sono morto anche Ok Io preferisco il fantasma Però è un po' un casino Almeno per me ragazzi Che io voglio sempre ammazzare qualcuno Comunque sia Abbattimenti fortivi Abbiamo chiesto questa missione Ehm Ehm Mi dispiace Ehm 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 Fare in due puntate La prima missione Ehm 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 Continuerò Ehm Ehm Comunque sia Ehm 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 Siamo alla prossima La prossima puntata Bella raga Ehm Ehm D W